Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Candy Craft E' notte quindi devo andare a dormire immediatamente E quello che dovete fare voi invece è... Come dici yogurt? Devono lasciare mi piace Ah devono anche iscriversi Eh me l'ho dimenticato sì Ragazzi mi raccomando iscrivetevi e lasciate mi piace a questo video Tra l'altro molti di voi ultimamente mi stanno dicendo Ma Kendall dov'è la Candy Craft? Perché la stai portando così poco? In realtà ragazzi la sto portando così come tutte le altre serie Ovvero due o tre volte a settimana Infatti sono usciti un bel po' di episodi dove abbiamo fatto tante esplorazioni Abbiamo migliorato la piramide E guardate qua Ho dovuto spostare il beacon block Perché infatti l'avevo fatto un pochettino troppo verso il ponte Uh vabbè non importa E visto che voglio creare un templio sopra il beacon block Cioè dentro il beacon block L'ho dovuto spostare un pochettino Altrimenti era veramente brutto e non si sarebbe visto nulla Quindi nella mia testa adesso riesco a immaginarmi un templio Proprio fatto così tutto quanto attorno al... a questo stato A questo altare Lucente e magnifico Scusa dammi i poteri Ho capito che ti ho appena ripiazzato Però dammi... dammi qualcosa Ok non mi dà nulla perché non ho ancora sacrificato un lingotto Allora come vi dicevo io voglio creare un templio di quelli tipo Un templio greco tutto bianco con le colonne Nel perimetro di questo beacon block Il problema è che sicuramente non verrà una bella costruzione Perché vabbè lo sapete io non sono bravo a costruire Ed il resto nessuno di voi si è iscritto al mio canale Per le mie abilità di costruttore di minecraft Non penso proprio Quindi devo prendere del quarzo Perché questi templi si fanno sempre in quarzo Tra l'altro ragazzi ci troviamo con la 20W49A Quindi il nuovissimo snapshot Che aggiunge le stalatiti e stalagmiti Al vostro mondo Ok di quarzo ne ho a bizzef Perché per fare i livelli ovviamente devo prendere il quarzo Il metodo più veloce che ho Quindi non dovrebbe essere un problema ottenere tanti blocchi Giusto? No ok Deve essere grande questo templio Ma non deve essere enormemente grande Deve essere moderatamente grande Non so se avete capito Comunque voglio fare qualcosa di grande Ma non esagerato Perché altrimenti poi non riesco a renderlo carino Dovrei averne degli altri però Ok Forse ne ho ancora qua da qualche parte I blocchi bianchi però ci potrebbero servire Quindi prendiamoli È da tantissimo tempo che non faccio una costruzione totalmente da solo Allora quella cobblestone lì ragazzi mi triggera Quindi io adesso direi di toglierla Mi dà fastidio È là da praticamente un anno Non l'ho mai tolta Ho sempre detto Ah sì poi la tolgo poi la tolgo Adesso la togliamo veramente Ok molto meglio Quindi tanto dobbiamo scendere comunque qua E vorrei anche fare poi un passaggio per arrivare da Tipo dal mare o dal porto Qui in questo modo voglio fare una stradina Per poter entrare all'interno di questo templio Infatti cercherò di fare il templio con due entrate Quindi non voglio fare una porta qua davanti e bassa No sarà tutto quanto aperto Dobbiamo fare il pavimento Dopodiché dobbiamo fare le colonne E poi infine il tetto C'è solo un problema Che io lo volevo fare Rialzato Volevo mettere delle scale qua Allora a meno che Potremmo utilizzare i blocchi di ferro come pavimento In effetti Potrei aggiungere questi qua attorno Sì 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 Così risparmio blocchi di quarzo Visto ragazzi ogni tanto bisogna utilizzare L'intelletto e l'intelligenza In questo modo risparmio i blocchi di quarzo E lo posso comunque E posso comunque farci delle scale Perché è quello che voglio fare io Ora aspettate Aspettate So che alcuni di voi staranno sicuramente pensando Kendall che cavolo stai facendo Perché lo pensate sempre quando provo a fare una nuova costruzione Date tempo al mio cervello di elaborare quello che Ci ho in mente giusto Allora forse ho fatto un pochettino troppe scale Ma non importa Noi facciamo così Poi tipo così forse Ma Non male non male non male E adesso continuiamo qua con il centro Questi alberi però sono Vedete ragazzi ho spianato tantissimo Proprio per evitare di avere gli alberi tra le scatole Ma evidentemente non è abbastanza Perché sono ancora un po' tra le scatole Ok Allora così non è centrato Perché quattro di là e tre di là Quindi dobbiamo farlo di tre Perfetto Dovrebbe essere centrato alla fine comunque il risultato no? Quindi così Poi mettiamo uno Due E tre È la primissima volta che faccio un templio ragazzi Non so come verrà fuori Probabilmente verrà fuori una schifezza Ma a noi non importa Noi ci accontentiamo lo stesso Boh mal che vada ragazzi Poi più in là Lo faccio sistemare da bella faccia Perché lui è bravissimo Ok È dritto Sì è dritto Fantastico Sta venendo bene Questo però è il nostro templio Adesso dobbiamo fare le colonne Per fare le colonne io ho bisogno del quarzo lavorato Come si fa il quarzo lavorato? Così Semplicissimo Oh ma che non ci vuole nulla allora Ok proviamo a fare un test Un piccolo Piccolissimo test Di colonna La devo fare La devo fare sottile sottile in questo modo Quindi di uno Oppure conviene farla di quattro Facciamo un test Proviamo ragazzi Stiamo sperimentando insieme Vediamo Allora non mi dispiace Però è un po' troppo spessa Quindi io direi di andare per colonne di uno Secondo me colonne di uno è meglio Voi che ne pensate? Del resto ho fatto anche qua questa scaletta Proprio per delimitare il contorno Per fare le colonne Quindi è anche meglio così Ok Sta venendo abbastanza bene ragazzi Non ci posso credere Sì lo posso dire Ogni tanto so costruire qualcosina Anche io Dobbiamo farlo molto alto Però ci sono già le foglie qua Che Che mi danno fastidio Alcuni di questi alberi Li devo proprio buttare giù Ma del resto ragazzi Non importa Tanto viviamo già in una foresta Quindi che fa Se spiano un pochettino Il luogo in cui abito Lo voglio fare alto Ma non troppo alto Perché ho paura poi Di renderlo abnorme E brutto Ricordatevi che più esagerati In una costruzione Più c'è il rischio Che venga brutto Ok Facciamolo così Tipo alto così Ok Ci servono degli altri pilastri Per fare le colonne Questo va allungato Di un altro blocco Allora diamo un'occhiata A come sta avvenendo Dall'esterno Quindi mettiamoci un attimino Sul ponte Tu che ci fai con Quell'armatura completa Eh pensi di sopravvivere Ai miei attacchi Soltanto perché hai Un'armatura in pelle Non credo proprio Ragazzino Allora vediamo Oh Oh cavolo Sta venendo molto più bello Di quel che io pensassi Sta venendo molto più bello Io pensavo sarebbe uscito Una schifezza Invece Ragazzi devo dire Che mi sta piacendo Tantissimo già Allora così No Un altro blocco in altezza Ok Devo allora chiudere tutto qua Poi creare qua Un arco In questo modo Perché Queste quattro Saranno le entrate Una di fronte Una a destra Una dietro E una a sinistra Quindi come posso fare I blocchi Li abbiamo Quindi non sarà un problema Però credo di voler Utilizzare i blocchi di quarzo Lavorato Forse viene più bello Facciamo un esperimento Ne prendiamo pochi Per adesso Prendiamo pochi di questi E li iniziamo a mettere Tipo così Lasciamo un blocco di là In questo modo Così Vediamo come viene Non lo so ragazzi Non lo so Facciamo così Togliamoli un attimo E facciamo un altro test Però con le colonne Oh cavolo Quanto è potente Il mio piccone E da tanto tempo Come vi dicevo Che non porto Un video soltanto Di costruzione E so che questi tipi di video Vi piacciono ragazzi Quindi Ehi Mi piace? L'avete già lasciato? Me lo auguro Adesso vado a dormire Buonanotte Pinotto Ciao Buonanotte yogurt Ciao Dopo una bella giornata Guardate quanto è bello Già da casa mia Credo che dovrò rimuovere Questi alberi qua Perché altrimenti Interferiscono con La vista del mio Meraviglioso E gigante E possente Templio Quindi Allora 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 Forse posso fare così Forse posso fare così Devo cercare di creare qui Un coso Così Ecco i tecnicismi di Kendall Devo cercare di creare qui Un coso Beh Non ci sta male Secondo me No ragazzi Poi potremmo fare tipo così Che dite? Magari lo unisco in questo modo? No Così è tremendo Così è terribile Via 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 Pessima idea Pessima idea Non vi preoccupate ragazzi I blocchi di quarzo Li posso tenere facilmente Mi basta andare nel nether Ci metto veramente Tre secondi A prendere negli altri Quindi Anche se li dovessi finire Tranquilli Secondo me Ci può stare Quel che devo fare adesso è Creare il tetto Farlo tipo spigoloso Però come si fa Un tetto spigoloso? Dove pensi di andare tu? Forestiero Si fermi subito qui Ho detto Lei è in arresto Sì Tu pensi di scapparmi? Non puoi andare in giro Nel mio mondo A farti gli affari tuoi Lama smettila Non mi sputare Smettila ho detto Guarda mi disprezza proprio Mi sputa addosso Chi disprezza compra Mio caro lama Ok ragazzi Sta avvenendo molto bene Secondo me Io ora devo trovare Il modo di fare il tetto Direi che il tetto Si può fare anche con le slab Però siccome non voglio sbagliare Perché altrimenti poi rischio Di non costruire più nulla Facciamolo per adesso Con i blocchi di quarzo Quindi non con le slab E poi qua ci posso mettere Le scalette In modo da farlo Tipo spiovente Bene Allora Mi spiace alberello Ma tu dovrai andare via Sì Sei di intralcio Per la mia fantastica costruzione La nuova costruzione Della candy craft Quindi non ti preoccupare Non appena mi darai un sapling Io ti ripianterò Da qualche altra parte È chiaro? Ricordatevi ragazzi Che se rompete un albero Ne dovete piantare Almeno due Ora che ci penso Avrei potuto utilizzare I nuovi materiali Per fare questo templo Quindi farlo magari tipo Non lo so Celeste O rosso Però In quarzo secondo me Ci sta Sì ci sta Ok ragazzi Ho finito il templo Cioè in realtà Non l'ho proprio finito Però ho finito i blocchi Quindi non posso continuare A decorarlo Ma lo faremo in un prossimo episodio Adesso siete curiosi Di vedere come è venuto Volete guardarlo? Ok Ora vi faccio vedere Il risultato Finale Eh? Che ne dite? Beh io devo essere sincero Sono molto Molto orgoglioso Di come sia venuto Il tutto Cioè Pensavo sarebbe venuto Una schifezza Invece è molto bello Allora Mi lancio un attimino qua E vi faccio vedere meglio Quindi Ho cambiato totalmente L'ingresso Ho messo soltanto le colonne A questo punto Perché secondo me Ci stanno molto di più E ho aggiunto anche Delle scalinate Per fare appunto Non lo so Come chiamarli Comunque purtroppo Ho finito gli scalini Quindi non ne posso aggiungere altri Non appena farò degli altri blocchi di quarzo Lo migliorerò Perché come vedete I dettagli L'ho fatti soltanto in questo qua Di davanti E qua invece ancora È da completare Però ragazzi Secondo me ci sta molto Dobbiamo soltanto Dargli un nome A me è sempre piaciuto Il nome Tempio della concordia Che esiste Che esiste nella vita reale Quindi credo che questo Sarà il templio Della concordia Non appena io Mi arrabbierò per qualcosa Verrò qui A rilassarmi Un templio zen Oppure Non lo so Ogni volta che litigherò Con qualcuno O che mi faranno degli scherzi Verremo qua Per fare pace E concordare Uno statuto di pace Non lo so ragazzi Comunque a me piace Veramente tantissimo Cerchiamo di illuminarlo Perché non voglio Che i creeper Lo distruggano E poi Ho finito le torce Mannaggia ho finito pure le torce Ma c'è qualcosa Che non finisca in questo mondo Beh in ogni caso ragazzi Poi cercheremo di abbellirlo Per bene anche con le lanterne Con i banner Sono sicuro che bella faccia Mi potrà dare una mano E se devo essere onesto ragazzi A me piace veramente tantissimo Ovviamente Spero piace anche a voi Beh adesso si è fatto notte Questo video è durato fin troppo Non so quanto vedrete Ma io sto registrando Praticamente da 38 minuti Dal vostro Candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao